Due interventi a distanza di tempo ma piuttosto complicati che hanno visto impegnati i vigili del fuoco nel territorio aretino. Il primo intorno all'una di stanotte un denso fumo si è alzato da un mezzo pesante che era in transito tra il raccordo di Viale Don Minzoni e Via Fiorentina ad Arezzo. Il tir trasportava stracci, ha preso fuoco sul posto, i vigili del fuoco del comando di Arezzo che hanno portato avanti le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento dell'incendio terminate intorno alle 6.30 del mattino. Nessuna conseguenza per le persone ma pesanti le ripercussioni per il traffico sul posto, la polizia municipale. Nel primo pomeriggio invece i vigili del fuoco di Sansepolcro e di Arezzo hanno salvato una donna ed il suo cane intrappolati nel fango. È successo a città di Castello in un'area verde. L'animale era caduto in una frana ed era rimasto intrappolato nel fango. La donna si era gettata per salvarlo ma poi non riusciva a risalire. I vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, il team elicotteristi del nucleo di Arezzo e del personale del soccorso alpino dell'Umbria hanno salvato entrambi. La donna non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche mentre il cane, stremato per lo sforzo, è stato portato da un veterinario per accertamenti a bordo dell'elicottero Drago.